ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco liquigel a cosa serve liquigel a un parafarmaco appartenente alla categoria degli spray protettivi e lubrificanti spray gel liquidi e in crema è commercializzato in italia dall'azienda caro farma srl informazioni commerciali titolare caro farma srl concessionario caro farma srl categoria di appartenenza spray protettivi e lubrificanti spray gel liquidi e in crema confezioni liquigel multi g in 30 ml indicazioni liquigel di a immediato sollievo nei casi di secchezza vaginale ottimizza la condizione del tessuto vaginale e favorisce la sua naturale idratazione descrizione e caratteristiche liquigel a basato sul complesso brevettato 2 qr che neutralizza i batteri patogeni in modo sicuro e naturale quindi anche adatto a favorire il naturale processo di guarigione dei tessuti danneggiati esempio dopo il parto questo prodotto è formulato per dare sollievo nei casi di secchezza vaginale causata ad esempio da rapporti sessuali variazioni ormonali farmaci stress o inserimento di tamponi a 0 un eccellente lubrificante ea un intenso effetto lenitivo da immediato sollievo dalla secchezza vaginale fisiologica e favorisce la naturale idratazione ottimizza la condizione del tessuto vaginale previene l'irritazione e da un eccellente lubrificante è naturale sicuro e protegge la flora vaginale liquigela basato sul complesso brevettato 2 qr a 0 naturale non contiene profumi o ingredienti di origine animale la composizione è compatibile con l'uso di profilattici non contiene conservanti componenti e ingredienti acqua aloe barbadensis extracto glicerine betaine gliceril caprilate galactora binan poliglucoronica cid cross polymer xan tangam uguale 2 qr complesso di polisaccaridi bioattivi brevettato da bioactive fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato